Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla tre Napoli-Salerno fino a lunedì 30 aprile per lavori di realizzazione della nuova rampa d'uscita dello svincolo Pompei-Ovest è attiva la riduzione di carreggiata sulla corsia d'emergenza nel tratto compreso tra le uscite Torre Annunziata Sud e Pompei-Ovest in direzione Salerno. Sulla 16 Napoli-Canosa dalle 22 di oggi alle 6 di domani per lavori è chiusa la rampa che immette sulla 1 Roma-Napoli in direzione Napoli. Per i veicoli provenienti da Canosa l'uscita alternativa consigliata è quella di Pomigliano d'Arco. Sulla strada statale 7 Bissa di Terra di Lavoro fino alle 18.30 di oggi è attiva la riduzione di carreggiata tra Villa Literno e Gricignano d'Aversa in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 268 del Vesuvio fino alle 16 di venerdì 20 aprile per lavori è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Ottaviano-Zona Industriale e Ottaviano-Centro in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Napoli fino a sabato 7 aprile nella fascia 22.6 per lavori è chiuso lo svincolo Lago d'Averno in entrata in direzione Capodichino. L'ingresso alternativo consigliato per i veicoli provenienti dalla viabilità urbana è quello di Arco Felice. Per la redazione Muoversi in Campania, Rossella Altamura. Grazie a tutti.